Io l'ho già fatto, l'ho già fatto. Ok, lascio a lei, è un'opportunità in più. Perché lei è migliore? Lei e io quattro, il dato è la città solo perché io dimostri il mio disagio sociale. Io quante volte l'ho cercata? Ho cercato anche l'assessore, sono stata anche alla regione, tutte le stesse cose di te. Tutte le stesse cose. Mi dispiace, non possiamo fare niente per lei. Io cosa devo fare per vivere? Ammazzare qualcuno forse? Cosa devo fare? Io ho bisogno di lavorare, non posso andare in pensione per quella puttana della fornera. Non posso andare in pensione per 65 anni, ho bisogno di lavorare. E poi me lo vedete, è un posto di lavoro. Adesso, se vuole, se vuole aspettarmi. Lei lo sa i miei riferimenti, può contattarmi se vuole. Non ho bisogno, lei può contattarmi, lo sa benissimo come fare. Fermi un secondo, se vuole aspettarmi dopo. A presto, guarda, per te, la metà è molto chiara. Aspetta. Dai, ragazzi, ci vediamo. Bravo, Casimo. Grazie.